ci sono delle due belle ragazze dal dal ci sono due belle ragazze di francese io ci ho collegamento dentro perfino l'australia manu e simon capito come fai ad avere conoscenze francese parlate in francese? sì, sì, signor! e quando ti parla in francese? quando hai ragazze? madame moussiel mademoiselle non mademoiselle mademoiselle bravissi il nome della mademoiselle qual è il nome? quale è il nome? Jules e Sœur sì? Jules e Sœur è Sœur? è Sœur? è Sœur? che cosa è Sœur? in italiano è chiamata Sara in francese Sœur Sœur? Sœur, sì Sœur Sœur com'è? Sœur e purtroppo quando mi scu... è l'alto come si chiama? è bella Jules però quando mi scuole il telefono tu vai in Tilt gli altri lo servono in Tilt il mio cuore adesso ci sentiremo di nuovo eh? lo so ci sentiremo... quale è questo? pensate a cosa dirle? natural natural io c'ho già tutto in mente perché lo sai se no sono costretto a muovere molto diversamente e poi non puoi dire dire direttamente io me la sguaglio non te la devi sguagliare se no c'è la pressa che ti aspetta e la pressa è troppo importante per te ma non per me eppure vuole sapere qual è l'autodemolizione dove mi devi portare a questa pressa qua bah vabbè